progressivo miglioramento. La Sardegna non soffre di particolari emergenze criminali ma non è immune da infiltrazioni e pericoli. Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabriele Sassari dove ha ricevuto il sigillo accademico riconoscimento ideato dal rettore dell'università. Sentiamo Giovanni Pinna. Non far rispettare la legge ma rispettare la legge è il compito principale di chi occupa posizioni di responsabilità nella politica, nelle istituzioni, nelle forze dell'ordine. Chi sbaglia troppo spesso non paga e quando ciò si verifica e vengono meno i presupposti basilari di una società civile virtuosa lo Stato non può pretendere di riscuotere la fiducia del popolo italiano. Parla soprattutto di responsabilità Franco Gabriele, capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza a Sassari per ricevere dal rettore Massimo Carpinelli il sigillo dell'università. È una nuova onorificenza accademica creata per omaggiare personalità che compiendo il proprio dovere abbiano dato lustro al territorio sardo e al paese. E di Sardegna il prefetto Gabriele ha voluto parlare dopo la cerimonia elogiando l'operato della polizia che, ha detto, deve essere un punto di riferimento costante per i cittadini. Non è una regione particolarmente esposta a forme insidiose di criminalità. C'è un grosso lavoro perché comunque è un territorio appetibile perché a volte la insularità non necessariamente la pone al riparo da forme criminali perché per fortuna ci sono aree in questa regione dove il soldo gira e siccome le organizzazioni criminali non sono organizzazioni no profit o solidaristiche ma vanno a intercettare i flussi di denaro.